Telefonata a dottor Livio. Dottor Livio, salve, io non so come accettare l'obiettivo, sono diventato un guardone in casa mia, mi faccio pena. La figlia, la regressione, la madre, complesso e tipico, è importante. Rapporto uomo-donna, deflagrare, liberato il padre inconscio, ritrovare una coscienza di sé dopo anni e anni, rivivere. Le vuoi fare, non è rivivere.